Per i cristiani comincia l'avvento, un tempo che ci porta al Natale e sentiremo spesso il ritornello state svegli, vegliate. Questo mi ha fatto venire un po' in mente all'esperienza del sonno. Il sonno è una di quelle esperienze che ci fa sentire come noi esseri umani siamo limitati, abbiamo bisogno di mangiare, di bere per vivere, abbiamo bisogno di dormire per poter sopravvivere. Il sonno ci parla anche di una fatica che accompagna la nostra esperienza. Otto, nove ore di attività e di lavoro ci prosciugano tutte le risorse, abbiamo bisogno di poterci ricreare le energie attraverso il sonno e ciascuno deve dormire per proprio conto nel senso che non c'è condivisione del sonno. Noi possiamo avere una convivialità, una condivisione del cibo. Di fronte ad una persona affamata posso dargli un pane, oppure possiamo dare un bicchiere di acqua da bere a un assetato, possiamo dare anche un vestito a uno straccione, ma io non posso dare il mio sonno a un altro. Posso vegliare con uno che soffre di insonnia, ma non posso dormire al suo posto. Ma questo mi ha fatto pensare che davvero questa esperienza del sonno così profonda, così umana, è un'esperienza di totale solitudine? Oppure noi condividiamo con qualcuno l'esperienza del dormire, del riposare. San Paolo dice sia che vegliamo, sia che dormiamo, noi siamo uniti a Cristo. Ecco, questo mi ha molto colpito. Viviamo insieme a Dio il nostro sonno e gli antichi insegnavano ad entrare nella notte come si entra in un santuario dove Dio è presente, dove Dio ci visita. E in un sonno calmo noi possiamo entrare in contatto profondo con il nostro io che si apre all'azione, alla presenza dello Spirito di Dio. La liturgia infatti dice nel sonno Signore rimargina le ferite dell'anima, c'è un'azione profonda di Dio nel sonno. La Bibbia dice anche di notte il Signore mi istruisce e i messaggi di Dio possono arrivarci attraverso i sogni. Nel sonno noi perdiamo il controllo su noi stessi, sulla nostra razionalità, sulla nostra moralità e ci consegniamo, ci abbandoniamo al Signore, lasciamo che Lui faccia. E spesso attraverso i sogni Dio ci manda un messaggio. Il messaggio del sogno può essere come mi trovo adesso, oppure un'indicazione della strada che dovrei prendere. Spesso attraverso i sogni Dio ci manda anche una promessa di bene. E comunque è vero che i sogni hanno spesso un linguaggio religioso, non soltanto perché sogniamo dei simboli religiosi come la croce, la chiesa, la luce, il pane spezzato, ma perché dentro questa esperienza è Dio che si rende più sensibile a noi. Allora senza eccedere nel pensare che in ogni sonno e in ogni sogno ci sia una rivelazione di Dio, però teniamo per buono quello che diceva un antico specialista dell'anima e cioè che nel sonno non ci sono atei.